Ciao a tutti, sono Simone Dosi di Associazione Audi Games, siamo qua in Dimatica 2017 per presentare i nostri audiogiochi. Noi sviluppiamo audiogiochi, cioè giochi accessibili alle persone non vedenti e ipovedenti. Vogliamo focalizzarci appunto a rendere disponibile il divertimento di un videogioco anche a queste persone, quindi non negargli tutto quello che può portare di buono un videogioco. Naturalmente i nostri giochi sono totalmente accessibili anche alle persone vedenti e sfruttano i canali audio al 100% per fornire la migliore esperienza di gioco possibile.